Innamorarsi a Bordighera è il nome della panchina rossa con un grande cuore, un mazzo di fiori e presine fatte all'uncinetto che è spuntata qualche giorno fa nella città alta ed è già diventata un'attrattiva turistica per cittadini e foresti. Un'iniziativa messa in atto dall'associazione Apria Presiuzzo, con il supporto del comune di Bordighera. Grazie a tutti